quello che vi andrò a raccontare purtroppo non è la trama di un film dimenticatevi l'esilerante weekend con il morto qui con il morto adesso c'è un matrimonio e le cose non sono messe per nulla bene ciao sono giovanni villino e questo è scala grado un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo una delle notizie che oggi ha richiamato la mia attenzione ci porta in india le prime nozze su metaverso con l'avatar di 2000 ospiti e tra questi c'è pure il defunto padre della sposa si pensate oggi celebrare il matrimonio su internet è cosa comune la pandemia ci ha abituato a vivere tanti momenti attraverso i collegamenti virtuali tanti compleanni durante il primo lockdown sono stati festeggiati a distanza grazie alle chat di whatsapp ammite a tutte quelle piattaforme che consentono il collegamento in simultanea di più persone bene adesso quello che è accaduto però deve farci riflettere in india come vi dicevo è stato celebrato un matrimonio particolare quello di celebrarlo su internet è una moda che va crescendo sempre di più questa volta però sta accadendo una cosa davvero particolare 2000 persone sono state invitate a un matrimonio che si celebrerà nel metaverso ricordate qualche episodio fa vi ho parlato di questa realtà che ha degli aspetti davvero inquietanti ma in realtà non siamo ancora in quel metaverso è una formula ben diversa e molto più artigianale questa coppia di sposi ha deciso di realizzare una piattaforma in cui celebrerà questo matrimonio invitando un numero incredibile di persone 2000 persone e questi ospiti saranno tutti rappresentati da avatar da immagini creati in 3d e tutto questo all'interno di un castello la curiosità è che tra gli avatar presenti ci sarà anche quello del suocero che è morto qualche mese fa non è il primo matrimonio celebrato in questo modo le cronache riportano anche un altro episodio una coppia di daily che avendo 450 invitati ha deciso di far seguire la cerimonia nuziale su google meet il banchetto è poi stato consumato da ogni famiglia nella propria abitazione dove è stato recapitato questo pacco ma cosa significa tutto questo ci stiamo preparando a quel concetto di immortalità che vi ho raccontato qualche episodio fa attraverso quello che noi stiamo oggi caricando nei social sarà possibile in futuro rielaborare attraverso l'intelligenza artificiale e la combinazione di foto pensieri parole e reazioni l'identità di una persona questa persona sarà in grado di agire e interagire con gli altri sulla base dei contenuti che ha caricato sul social verrà rielaborato e così noi avremo in questa realtà virtuale in questo metaverso la possibilità di incontrare persone che non sono più in vita e che magari si relazioneranno con noi sulla base dei contenuti che hanno già caricato quindi avranno magari la stessa battuta spiritosa ripeteranno qualche frase che in vita abbiamo sentito e ci sarà la percezione di una presenza continua questa cosa può portare può portare forse ad alienarsi ancora di più dalla realtà per buttarsi in un mondo dove ritroviamo i nostri affetti e dove scegliamo noi come e cosa vivere questo è un rischio probabilmente sì ancora troppo presto per dirlo ma mai troppo tardi per cominciare a pensare che forse è il caso di fermarsi un attimo per capire le possibili controindicazioni ciao sono giovanni villino e questo è scala grado un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo